terremoto di magnitudo 4.3 epicentro a monte felcino e serra ungarina vaccini anticovid terze dosi avanti a passo lento fra lavori e carenza di spazi il cimitero si prepara al primo novembre sempre meno plastica grazie agli utenti delle casette dell'acqua benvenuti al nostro telegiornale di oggi venerdì 29 ottobre che apriamo occupandoci del terremoto che si è avvertito distintamente in tutta la provincia di pesaro urbino poco prima delle 13 due scosse con la più potente di magnitudo 4.3 a monte felcino e un'altra serra ungarina dopodiché altre due scosse più lievi sono state avvertite nelle ore pomeridiane al momento non si registrano cedimenti o danni sono state evacuate le scuole in alcune casi resteranno anche chiuse domani per verifiche approfondite ma vi raccontiamo tutto e al meglio in questo primo servizio di daniele sacchi torna a tremare la terra marchigiana e lo fa alla vigilia del quinto anniversario del sisma del 2016 che sconvolse la regione questa volta però il terremoto ha procurato solo un grande spavento ma senza procurare danni la prima scossa nonché la più violenta è arrivata alle 12 53 con epicentro a tre chilometri a nord del borgo di monte felcino e a 38 chilometri di profondità un sisma con una magnitudo 4.3 seguito tre minuti dopo da un'altra scossa con epicentro spostato a serrungarina nel territorio di coglie al metauro qui la magnitudo è stata di 2.7 serrungarina è stata poi il centro di una terza scossa ancor più lieve di magnitudo 2.3 avvenuta alle ore 13 25 alle 15 07 una quarta scossa di magnitudo 2.6 di nuovo nel territorio di monte felcino la scossa di monte felcino ha rappresentato il sisma più potente avvertito nelle marche in questo 2021 ma la stessa amministrazione comunale attraverso i social ha prontamente rassicurato sul fatto che non si siano rilevati i danni di particolare entità lo stesso dicasi nel comune di coglie al metauro secondo epicentro del sisma da noi nel nostro comune nulla di preoccupante ho già immediatamente subito allo scorso dato mandato poi l'ufficio tecnico di andare a verificare immediatamente tutti i plessi scolastici non hanno riscontrato nulla di anomalo o non andasse bene la protezione civile ci ha dato riscontro estremamente positivo che sul territorio non fosse caduta nulla e la scuola parte del nostro comando di polizia locale quindi un grande spavento poi i dirigenti per noi abbiamo due istituti comprensivi che interessano il nostro territorio entrambi hanno per precauzione fatto evacuare le scuole e rimandato i ragazzi a casa accompagnati logicamente dai genitori o in alcuni casi quando la scuola era in prossimità della conclusione intorno alle luna hanno atteso proprio la conclusione fuori dall'istituto e poi sono rientrate a casa con i pulmini del trasporto scolastico proprio la coincidenza del sisma con la conclusione dell'orario scolastico ha scatenato una diffusa evacuazione di gran parte delle scuole della provincia come previsto dal piano d'emergenza è stato così a peso ma anche a fanno dove si è pure deciso di sospendere ogni attività scolastica prevista nel pomeriggio e nella mattinata di sabato per effettuare verifiche approfondite una scelta di chiusura decisa dalla giunta dopo la riunione del centro operativo comunale che ha portato a decidere di fermare anche l'attività della mediateca montanari e della biblioteca federiciana tantissime le chiamate i vigili del fuoco arrivate anche da isola del piano cartoceto e monbaroccio così come da fossombrone valle foglie marotta le verifiche sono attualmente in corso su una scossa che è stata avvertita anche in umbra in romagna trenitalia nel pomeriggio anche deciso di sospendere la circolazione ferroviaria tra rimini ancona tra falconara marittima e fabriano e tra civita nova e fabriano ed ora cambiamo argomento parliamo di vaccini le marche sono attualmente fra le regioni che viaggiano a passo più lento nella somministrazione della terza dose solo una persona su cinque la ricevuta fra i marchigiani che ne potrebbero attualmente beneficiare anche nelle marche come nel resto d'italia è un momento interlocutore della lotta al covid 19 sebbene non si registri una pressione sugli ospedali degne di preoccupazione anzi ottobre nelle marche si è chiuso con un numero di ricoveri inferiore a quello con cui si era chiuso settembre però il periodo autunnale è quello potenzialmente più a rischio propagazione del virus e anche i dati di contagio marchigiani quasi quotidianamente attorno alle 100 unità invitano a tenere l'attenzione alta soprattutto alla luce di una settimana che nel territorio si è chiusa col 65 per cento di contagi in più rispetto a quella precedente a livello marchigiano l'incidenza del virus è passata da 30 a 34 casi settimanali ogni 100.000 abitanti un dato in linea all'andamento nazionale ma a differire dal resto del paese è il ritmo lento della somministrazione delle terze dosi del vaccino anti covid secondo i dati del ministero della salute le marche sono infatti al diciottesimo posto per quanto riguarda la somministrazione della dose aggiuntiva per raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria basti dire che su 138 mila marchigiani che attualmente possono ricevere la terza dose hanno deciso per l'inoculazione in meno di 28 mila ovvero circa il 20 per cento degli aventi diritto fiacca la risposta degli over 80 e attualmente non esaustive nemmeno quelle degli ospiti della rsa la vaccinazione attualmente permessa anche agli over 60 che hanno ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi e da un paio di giorni si è allargata a tutto il personale sanitario senza limiti anagrafici se si continua a seguire lo schema delle precedenti vaccinazioni fra le prossime categorie potrebbe esserci l'apertura a insegnanti e personale scolastico per rinforzare la salvaguarda di un ambiente didattico che in questo finale di ottobre conta una cinquantina di classi in quarantena in tutto il territorio marchigiano attualmente la terza dose non decolla perché non sembra solleticare costrizioni stringenti al di là di una forte raccomandazione soprattutto per quelle persone con uno stato di immunodepressione che attenua l'effetto delle prime due dosi e come citato nel precedente servizio anche il report quotidiano del servizio sanitario regionale conferma la crescita dei casi di contagio rispetto a una settimana fa oggi se ne contano 122 di cui 52 in provincia di pesarurbino cifre alte sebbene rilevate da un elevato numero di tamponi processati ben 3516 crescono però i ricoverati se ne contano 65 cioè 4 più di ieri di cui 18 in terapia intensiva oggi si è registrato anche un decesso si tratta di un uomo di 85 anni di serra dei conti si avvicinano l'uno il 2 novembre ovvero le festività di ogni santi e la commemorazione dei defunti giornate in cui tradizionalmente cresce l'afflusso di cittadini ai cimiteri oggi quindi siamo stati a vedere un po la situazione del cimitero centrale di pesaro che convive con cantieri attualmente sospesi e con un rischio saturazione sempre più concreto siamo alle porte della festività di ogni santi l'uno il 2 novembre il periodo dell'anno tradizionalmente dedicato al maggiore afflusso di persone verso i cimiteri verso le visite ai propri cari siamo venuti al cimitero centrale san decenzio di pesaro per vedere come si presenta il cimitero alla vigilia di questo appuntamento annuale cimitero di pesaro che da anni alle prese con diverse problematiche dal 2017 in poi si è creata una situazione particolare soprattutto nella parte nuova quella delle padiglione dei fiori un padiglione dove ci sono stati a lungo dei periodi di transenne per il cedimento di alcuni pannelli strutturali per delle infiltrazioni lavori posticipati che sono finalmente partiti in questo mese di ottobre partiti ma subito interrotti perché perché si è aspettato questo tipo di festività per poi entrare nel clou con l'intervento del comune da 400 mila euro intanto però in queste giornate del primo e del 2 di novembre il cimitero anche nel padiglione dei fiori si presenterà con tutti i varchi d'accesso aperti a ogni tomba di ogni corridoio un cimitero come sempre in ordine come tutti i 29 cimiteri che gestiamo su cinque comuni della vallata del foglia ci sono in continuazione lavori per cercare di migliorare ulteriormente la fruibilità il padiglione dei fiori che è stato oggetto di un contenzioso tra il comune e la ditta che lo realizzò al tempo oggi è fruibile sono stati messi in sicurezza tutti gli accessi per poter dare la possibilità ai parenti di visitare le tombe dei loro dei loro congiunti subito dopo questo periodo di maggior afflusso il comune ci ha già fatto sapere che inizierà i lavori veri e propri di ristrutturazione che dovrebbero risolvere in maniera radicale le problematiche che si sono avuti negli ultimi anni che purtroppo noi come aspers non non eravamo in grado di affrontare in quanto non spetta noi la manutenzione straordinaria ma solo la manutenzione ordinaria e la gestione dei cimiteri luca pierici ha dunque illustrato lo stato attuale di salute del cimitero centrale san decenzio sia della parte vecchia che di quella nuova parte nuova questa adiacente al padiglione dei fiori dove recentemente negli ultimi sei mesi è stato realizzato un ultimo settore dedicato alla sepoltura però cominciano davvero a limitarsi gli spazi di ulteriore allargamento il rischio e saturazione comincia a essere un rischio concreto e sono allo studio diverse ipotesi per contemplare le esigenze della cittadinanza nei servizi funebri purtroppo l'area cimiteriale del centrale comincia a essere satura sono ormai pressoché esauriti gli spazi su cui poter fare nuove edificazioni di di loculi fino ad oggi abbiamo tamponato con tumulazioni provvisorie sui cimiteri periferici candelara trebbiantico villa fastigi abbiamo ancora qualche anno di autonomia rispetto anche al centrale anche perché alle tumulazioni classiche si sta sostituendo pian piano almeno all'incirca sul 40 per cento nei nei cimiteri cittadini la tumulazione attraverso la cremazione stanno scadendo anche le concessioni 35 annali 30 annali che sono partite 30 35 anni fa per cui alcuni loculi si stanno liberando stiamo cercando insomma nella gestione di non creare problemi agli utenti alla cittadinanza ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a mandarci tramite whatsapp potete mandarci video foto o messaggi di testo al 370 366 72 10 dal campus scolastico di pesaro infatti oggi alcuni ragazzi che ringraziamo ci fanno presente in ripetersi di episodi di animi concitati sopra le righe al momento dell'accesso agli autobus regolamentati dalla capienza come ben sapete ridotta episodi che nel video che vi mostriamo sfociano però in comportamenti al limite della prepotenza ora te lo smetti te lo smetti cretinetta cretina ci chiami a tua figlia non a me capito ma te come stai ma te come stai ok veramente ed ora cambiamo argomento parliamo di turismo lo facciamo con il direttore di conf commercio pesaro urbino marche nord amerigo varotti che ci testimonia l'appeal crescente degli itinerari della bellezza di conf commercio che anche in autunno continuano ad avere confortanti riscontri di gradimento il turismo nella nostra provincia non ha più stagione quelli che ancora si soffermano a parlare di destagionalizzazione parlano un linguaggio del passato oggi sappiamo che dobbiamo lavorare per un turismo di 365 giorni all'anno perché è vero che l'offerta balneare è quella più importante della nostra provincia ma è altrettanto vero che la primavera col turismo scolastico con i nostri musei l'autunno con le fiere autunnali dedicate all'agroalimentare fanno sì che insomma la nostra provincia è una provincia che deve lavorare per un turismo tutto l'anno l'itinerario della bellezza è il progetto di punta di conf commercio per valorizzare i nostri territori come dicevi giustamente nel mese di ottobre abbiamo avuto l'adesione del comune di Apecchio quindi siamo 14 comuni ma siamo già in procinto di confermare altre entrate altri comuni lo comunicheremo prima del 15 di dicembre dove ci sarà la convention dell'itinerario della bellezza 2021-2022 proprio ieri abbiamo avuto conferma della riconfermata adesione da parte del comune di Fossombrone c'è stata una gara sul MEPA che abbiamo vinto abbiamo quindi confermato la gestione dell'ufficio IATE e dei servizi museali del comune di Fossombrone siamo in procinto di partire con il nuovo itinerario archeologico che sarà presentato il 25 di novembre a Pestum alla borsa del turismo archeologico dove io e il vice sindaco di Pesaro Vimini presenteremo anche il nuovo museo oliveriano e un'altra iniziativa del comune di Pesaro oltre all'itinerario archeologico quindi insomma non ci fermiamo veramente anche perché stiamo già lavorando per presentare a febbraio a Milano e il nuovo itinerario della bellezza ma anche la novità assoluta che è l'itinerario del mototurismo delle Marche che vedrà la realizzazione di 15 percorsi per moto turisti, 3 per ogni provincia e sarà veramente la novità dell'anno per la nostra regione Domani sabato 30 ottobre a partire dalle 15.30 in piazzale della Libertà di Pesaro si terrà un flash mob organizzato dall'Arcigay Agorà di Pesaro Urbino per manifestare civilmente lo sdegnato dissenso all'affossamento del senato del DDL ZAN per Arcigay si tratta di una grossa occasione persa nella garanzia alle tutele contro misoginia e omofobia e invita il resto della cittadinanza a manifestare Il valore della vera inclusione è il titolo del concorso d'arte figurativa promosso dalla ONLUS piattaforma solidale rivolto agli studenti delle scuole superiori Bramante Genga e Mengaroni di Pesaro della Rovere di Urbania, Scuola del Libro di Urbino e Liceo Nolfi a Polloni di Fano Sono le cinque scuole che insieme alla provincia e agli ordini di architetti, ingegneri e geometri hanno siglato un protocollo d'intesa per avviare iniziative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche Il concorso ha come testimonial l'artista pesarese Giovanni Contardi diventato famoso a livello internazionale per le sue creazioni con i cubi di Rubik Proprio con i cubi, Contardi, realizzerà il ritratto del primo classificato che riceverà anche un buono di 200 euro per l'acquisto di materiale didattico Sono tante le feste e gli eventi di Halloween in questo fine settimana particolarmente vivace l'appuntamento di Gradara che da domani al primo novembre diventerà un borgo da brividi con Halloween Weekend Sarà un evento che coinvolgerà il centro storico con tre giorni all'insegna di zucche itinerari animati per adulti e bambini lo show lunch and dinner in stile Harry Potter oltre a mercatini, ristoranti e osteria in tema Halloween Ed ora parliamo delle cosiddette casette dell'acqua gestite da marche multiservizi strutture che erogano acqua potabile e continuamente controllata a basso costo e senza plastiche un servizio che è utilizzato da un numero sempre più alto di pesaresi Tre benefici in una sola bottiglia benefici alle tasche perché un litro d'acqua costa appena 5 centesimi di euro benefici alla salute perché la qualità dell'acqua è monitorata costantemente ma soprattutto benefici all'ambiente perché ogni bottiglia di vetro riempita in una delle 19 casette dell'acqua gestite da marche multiservizi e distribuite sul territorio provinciale rappresenta una bottiglia di plastica in meno che entra nel circolo dei rifiuti Le immagini che vi mostriamo si riferiscono alla casetta dell'acqua di Pesaro presente nel parcheggio San Decenzio installata da tre anni insieme alla casetta gemella di Villa Fastigi Tanti pesaresi arrivano con le loro cassette di bottiglie di vetro e si riforniscono con frequenza a un punto d'erogazione attivo 24 ore su 24 Il sistema è elementare, spiccioli o carte alla mano per spingere tre coppie di pulsanti divisi fra acqua liscia, frizzante o leggermente frizzante Un sistema che moltiplicato sulle 19 casette dell'acqua in provincia gestite da marche multiservizi ha permesso di erogare 1.200.000 litri d'acqua nei primi nove mesi del 2021 La casetta dell'acqua, oltre ad erogare acqua di qualità che è quella poi che puntualmente abbiamo nei nostri rubinetti lì addirittura di una qualità supplementare perché ha dei controlli costanti gestiti direttamente da Adriatica Acqua in alcuni casi, in altri direttamente dalle amministrazioni comunali siamo riusciti a togliere tutto quello che è l'imballaggio di plastica che è ad erogare quantità molto importanti e quindi garantendo da una parte l'aspetto ambientale dall'altra un utilizzo costante di acqua del nostro territorio Vedo e riscontro anche da parte degli amministratori locali una grande sensibilità e una gestione molto intelligente di questa casetta dell'acqua che sempre di più sta portando risultati nel territorio E concludiamo con una notizia di sport Le immagini che vi mostriamo riguardano il successo di ieri sera dell'Ital Service che ha conquistato una fondamentale vittoria per 4 a 2 al cospetto dei cechi di Polsen nella seconda partita del main round di Champions League in svolgimento a Rimini Decisive le reti di De Oliveira, Fortini e la doppietta di Canal per un risultato che riabilita le speranze di passaggio del turno dei pesaresi inizialmente sconfitti al debutto dai russi del Tumen Il passaggio del turno si deciderà domani alle 18 nella terza e ultima gara del main round I pesaresi se la vedranno con i kazaki del Kairat Almaty E prima di andare a vedere la programmazione di questa sera su Rossini TV vi ricordo che domani si terrà la consueta rassegna stampa alle 7.20 ma poi il nostro telegiornale e la nostra rassegna per quanto riguarda lunedì giorno di festa faranno pausa ma ritorneranno puntuali martedì con la diretta delle 7.20 della nostra rassegna stampa Ed ora vediamo appunto la programmazione Questa sera alle 21.20 vi mostriamo quella che è stata la prima edizione del rally delle marche della Yamaha e di DEG Motorsport E poi alle 21.40 quindi subito dopo questo speciale invece vi raccontiamo gli stati generali del turismo che si sono tenuti a Pesaro presso il cantiere Rossini E poi vi ricordiamo come sempre che oggi c'è stato insomma il Vallefoglia Magazine alle ore 20 lo potete ritrovare in replica rivedere questa sera in replica alle 23.15 ma anche domani ad esempio alle 12 e alle 20.30 e così in tutte le altre repliche Domani vedete qui c'è Antonio Astuti con voi in diretta per la consueta rassegna stampa che come sapete è presente su Rossini TV anche il sabato Ho detto davvero tutto vi auguro buone feste per questi prossimi giorni seguiteci per restare sempre aggiornati sul nostro sito rossinitv.it oppure sulle nostre pagine social Facebook e Instagram Grazie e buona serata Grazie